Danilo Tricarico, una giornata assorta, un campo pesante, però forse non basta questo di giustificare la sconfitta? Magari fosse questo, ma no, giusto insomma si è proprio responsabilità, io in primis, passando per tutti i ragazzi perché al di là del risultato magari in alcune situazioni può essere casuale, no? Noi ad esempio in Primo abbiamo creato molto, abbiamo fatto comunque una prestazione, oggi è stato fatto qualcosa che non è pensabile, non possiamo fare, non se lo merita la società, non se lo merita nessuno, non ce lo meritiamo noi, ed è giusto fare un bagno di umiltà, ma fortunatamente si gioca giovedì e cerchiamo di ripartire, però davvero quello fatto oggi al limite dell'imbarazzante e speriamo che lo si sia capito davvero, no? Perché poi anche in altre prestazioni, magari abbiamo portato a casa il risultato, però la leggerezza, magari lasciare tanti gol, la leggerezza nel prenderlo magari quando la partita è indirizzata, sono cose che noi non vogliamo, non ci possiamo permettere e speriamo che ci sia tolti da subito questa quasi puzza sotto il naso di giocare certe partite dove c'è comunque da lottare, da combattere, lo sappiamo, vuol dire che sono tutte le squadre male chiuse e che bisogna cercare di vincere qualche duello in più, andare a prendere qualche seconda palla in più, ma al di là di tutto è proprio un discorso di presunzione che non ha modo di esserci.